Voi credete di avere la forza e l'impunità, ma io credo di avere la verità e l'innocenza. Strana e lunga guerra è quella in cui la violenza cerca di opprimere la verità. Tutti gli sforzi della violenza non possono indebolire la verità e servono solo a farla risaltare maggiormente. Tutti i lumi della verità non possono nulla per fermare la violenza e altro non fanno che inasprirla ancora di più. Quando la forza combatte la forza, la più potente distrugge la meno potente. Quando si oppongono i discorsi ai discorsi, quelli veri e persuasivi confondono e dissolvono quelli che hanno soltanto vanità e menzogna. Ma la violenza e la verità sono impotenti l'una sull'altra. Non si pretenda per questo tuttavia che siano cose uguali, perché vi è questa estrema differenza che la violenza ha soltanto un corso limitato dall'ordine di Dio che ne guida gli effetti alla gloria della verità da essa attaccata, mentre la verità sussiste eternamente e alla fine trionfa dei suoi nemici, perché è eterna e potente come Dio stesso. E con queste parole vi do il bentornati alle monografie. Prima monografica del 2022. Partiamo con la grande intelligenza, sagaccia, ironia e il pensiero abissale straordinario di Blaise Pascal. Come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Bentornati alle monografiche. Che bello essere qua, che bello essere qua. Finalmente si ritorna a tuffarci nel cuore e nel cervello di grandi pensatori. E volevo partire con un pensatore importante che mi mette anche un po' in imbarazzo, perché voi dovete sapere che io Pascal l'ho masticato, studiato, letto tantissimo in passato, però sul canale ne ho parlato pochissimo. Eppure tantissimi dei miei pensieri, delle idee che vi ho proposto negli anni, in qualche modo sono emersi proprio leggendo questo pensatore, che fa parte di me in un modo talmente intimo che spesso non mi viene neanche in mente di citarlo, perché non ce n'è bisogno, perché le sue parole sono le mie. E quindi oggi ve lo racconto un po'. È un pensatore veramente importante, perché ha a che fare con aspetti molto intimi della nostra vita, con i nostri modi di relazionarci agli altri, con un sacco di problemi che affrontiamo ogni giorno. È un pensatore del XVII secolo che però sembra venuto fuori da poco tempo, che sia nostro contemporaneo. Questo capita con tutti i grandi filosofi, con cui si conversa, perché sono vivi e camminano fra noi, non come gli zombie mangiacervelli, ma come vicini di casa, con cui parlare, conversare, litigare e discutere anche ogni tanto per cambiare idea. E partiamo quindi con questo Pascal, pensatore famosissimo per la scommessa di Pascal, che come vedremo secondo me è una delle idee meno originali del suo pensiero, meno potente. Partiamo però da un'idea fondamentale. Noi spesso combattiamo la tristezza e la depressione con la motivazione e le frasi sulla bellezza della vita. Ci circondiamo di motivatori, di libri di autoaiuto, di guru che ci dicano tranquillo, andrà tutto bene, vedrai che ce la farai, faccela, faccela, faccela e via dicendo, perché la vita è bella, tutti sono belli, tu sei bello, devi volerti bene e via dicendo. E noi pensiamo così di combattere la tristezza, eppure raramente questo ci permette di uscire da uno status di miseria, perché la motivazione, il sentirci dire l'idea consolatoria che in fin dei conti la vita è bella, quindi sorridi, può darci il boost adrenalinico utile a venire fuori per un secondo da quella condizione di tristezza, di miseria e depressione. E poi ci ricadiamo nuovamente, perché non stiamo combattendo le radici dell'infelicità, stiamo soltanto sconfiggendo momentaneamente alcune sue manifestazioni, e però poi se la radicia resta lì, continua a germogliare, e quando cadiamo di nuovo nell'abisso stiamo ancora peggio. Ecco, Pascal ha un approccio molto molto diverso. Secondo lui il modo per affrontare, non sconfiggere, ma affrontare la miseria, la depressione, la tristezza, sta non nell'evadere, nel farsi dire che la vita è bella, nel leggere i libri che ci fanno sentire tutto bene con noi stessi, no? Si tratta invece di guardare in faccia la miseria dell'uomo, di accettarla, di osservarne l'ambivalente insopportabilità. Facciamo schifo! E questo è ciò che guardiamo veramente negli occhi per combattere l'infelicità, e cercheremo di capire questo dove ci porta. Quella di Pascal è una filosofia scrub, cioè una filosofia che gratta via, che escolti, che toglie, non aggiunge né consola, ma scaccia, scarnifica tutto ciò che ci impedisce di pensare. Vi ricordate quell'idea a cui mi sento molto legato di emendazione, così come ne parla Spinoza, il trattato sull'emendazione dell'intelletto, opera straordinaria? Ecco, per quanto il pensiero di Spinoza sia un pensiero emendante o emendatorio, quello di Pascal è ancora di più, è proprio il tentativo di scavare a fondo, di togliere, perché in fin dei conti noi siamo infelici per le cose che abbiamo in più, che ci impediscono quindi di vedere la verità. Leggere Pascal significa cominciare a fare quest'opera di scrubbing e di togliere il superfluo, come se avessimo una patina su un affresco che non riusciamo a vedere e noi da buoni archeologi della nostra esistenza dobbiamo togliere di mezzo tutto ciò che ricopre quell'affresco, che non sarà però un'opera d'arte, ma sarà l'evidenza di quello che siamo in effetti. La verità di Pascal è prima di tutto quella di capire come usare le diverse facoltà dell'essere umano. Noi siamo molteplici, nel senso che abbiamo molteplici approcci nei confronti del mondo, perché le esperienze sono molteplici e i nostri talenti sono molteplici. Abbiamo l'arte, la scienza, la filosofia, la matematica, la geometria, abbiamo una montagna di approcci. Ecco, il punto fondamentale di Pascal, ancora così attuale, è ricordati che la tua miseria cresce e diventa insopportabile quando cominci a usare certe facoltà in un modo in cui non dovresti effettivamente usarle. Quando usi la ragione per affrontare l'irrazionale, quando usi l'irrazionale per affrontare qualcosa di empirico, ma questo lo vedremo. E in tutto questo individuare i limiti di ogni facoltà e di conseguenza i nostri limiti. Ecco qual è il vero scrub del pensiero di Pascal, ciò che non ci può consolare. Pascal è un pensatore che denuda i nostri limiti, che ci dice guarda che sei nudo, anche quando credi essere potentissimo, un re, un sovrano, sei nudo, sei piccolo, limitato. Parti da questo presupposto, scopriti fragile, impotente, scopriti vulnerabile e da lì riconosciti effettivamente. Oltre a tutto questo, Pascal fu uomo di scienza e di fede, filosofo contro i filosofi, letterato, perché ha scritto anche delle opere che rasentano la letteratura, con uno stile sempre fresco, ironico, un moderno che riesce a mettere un ponte fra antichità e contemporaneo. È uno dei pochi veri pensatori totali. Cioè uno che, se voi prendete... Allora, io qui ho le opere complete, ok? Questa bellissima edizione, che poi vi consiglio, trovate in descrizione o in chat, se scrivete comando Pascal. Tanto per dirvi, se io vado all'indice, se vado all'indice e vi leggo l'indice, prendete paura. Allora, ci sono una montagna di lettere, poi scritti di geometria aritmetica, scritti sul triangolo aritmetico, la corrispondenza con Fermat, che è grandissimo matematico, con cui ebbe una corrispondenza molto interessante. Chiunque sia veramente interessato alla storia della matematica e della geometria dovrebbe leggersi quelle cose. Scritti di fisica. Ebbe una polemica con Etienne Noël, trattati sull'equilibrio dei liquidi e sul peso della massa dell'aria. E poi, ovviamente, poi polemiche morali e religiose, interessantissime peraltro. Le provinciali, che è un testo di grandissima attualità, che io ho trovato soltanto qui dentro, però non credo venga venduto, almeno non ho trovato edizioni con solo le provinciali. Dopodiché, scritti di polemica religiosa, lettere ai membri della famiglia, ci sono un sacco di opuscoli, fra cui scritto sulla conversione del peccatore, compendio della vita di Gesù Cristo, che trovate invece con la vita di Gesù, l'intelligenza geometrica, preghiera per chiedere a Dio il buon uso delle malattie, scritti sulla grazia, scritti sulla cicloide, manifesti che annunciano l'istituzione delle carrozze pubbliche, quindi si occupava anche di cose legate alla politica, alla res pubblica. E poi, ovviamente, abbiamo i pensieri. I pensieri è la sua opera principale. Quasi tutte le citazioni che vi proporrò durante questa monografia sono tratte dai pensieri, sappiatelo. Però fu un uomo totale, incredibile. E io vi consiglio, già, cioè, è una cosa che non faccio mai, perché di solito, lo dico a fine live, però ve lo dico, leggetelo, Pascal. Cioè, veramente, sapete, ogni monografia ha un solo scopo, non quella di farvi accontentare di quello che io vi porterò, ma quello di spingervi, spingervi ad approfondire, spingervi a leggere. Non state col culo per terra a dire, oh, adesso Duffer ha detto queste cose, mi bastano. Andate a leggervi, Pascal. Perché crescerete? Perché vi darà un sacco di strumenti. Soprattutto i pensieri di Pascal. E poi, se vi piacciono quelli, anche altre opere. Se, infatti, devo consigliarvi delle opere, allora, vi consiglio questo piccolo, grande investimento, Costicchia, ma ne vale la pena, che è quello delle opere complete, che sono 3200 pagine di Pascal. E io l'ho mezzo imbrattato. È bellissimo, bellissimo. È tutto scritto qua e là, quindi, insomma, prima o poi ne prenderò un altro. Forse, vedremo. Oppure cancellerò tutte le annotazioni. Però, se poi uno non vuole spendere così tanti soldini, allora ci sono anche edizioni singole. Intanto, i pensieri. Trovate tutto in descrizione, come ho detto. Poi c'è un altro testo, che è L'arte di persuadere, che è un testo interessante. Anche quello lo si trova qui dentro. E poi c'è, come citato, Vita di Gesù, in cui sono esplicitati tanti pensieri religiosi di Pascal. E poi c'è il testo Le provinciali, che è forse anche il suo più ironico, sarcastico, fresco, divertente da un certo punto di vista, che però, ripeto, c'è qui, non l'ho visto in altre edizioni. Potrei sbagliarmi. Quindi, insomma, se uno è veramente interessato a Pascal, secondo me deve provare a prendere queste opere complete. E detto questo, io passerei, prima di procedere con la monografica, alla nostra chat. Quindi, do il saluto a tutti quelli che sono entrati. Ciao, bellissime persone. Siete in tanti. Insomma, siamo di mercoledì sera e ho 362 persone in live per parlare di Pascal, che è una cosa veramente, veramente molto bella. Grazie mille. Vi faccio un bel applauso. Che bello, che bello. Vi spingo a dilapidare il vostro patrimonio in libri. Esatto. Quel libro è così grosso che mi fa più paura di Berlusconi presidente. Beh, non esageriamo, non esageriamo. Ah, vediamo un po'. Scusami, Rick, se non c'entra nulla, ma hai fatto, farai una monografia in seguito e lasciare Bach? Eh, sì, certo. Prima o poi la farò, sicuramente. E la filosofia di Pascal è Scrub. Mitico me lo segno. Ti dico anche che questa cosa qua in realtà mi è stata ispirata da Bruno Mastroianni, che ha scritto che il mio elogio dell'iozia è un libro Scrub. E questa cosa qua l'ho rubata al buon Bruno, l'ho scritto nella prefazione, alla nuova edizione dell'elogio dell'idiozia, dicendo appunto il mio è un libro che non dà risposte, non dà, però scava, gratta. Ed è quello che a me piacerebbe fare. Di nuovo, io, Pascal, lo cito non spesso perché l'ho introiettato e la sua filosofia Scrub ho cercato di farla mia. Io quando faccio un video, quando faccio un daily cogito o una monografica, il mio tentativo non è quello di darvi degli elementi, ma è di togliervene perché sono un bastardo dentro. A parte gli scherzi, io credo che la filosofia abbia quel senso, il senso di grattare via il superfluo, di mostrarci come tanti dei nostri pensieri in realtà sono assolutamente non utili e anzi dannosi perché ci offuscano il modo migliore per pensare. Pascal è esattamente questo, quindi... Un libro per appassionarsi alla monografica di Dufer su Pascal. Con questa battuta vi state facendo prendere la mano. Vi banno tutti! No, sto scherzando. E quindi va così. Luca Cordoglio di Montezeno fa una battuta da nerd, dice sarà, ma comunque 99.999 Pascal non valgono un bar. Questo è per ingegneri, l'ho capita anch'io che sono un filosofo, però ti meriti il tutunz perché era carina dai. Bene, 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 bene. Allora vedo che ancora non ci sono domande inerenti alla nostra monografica, voi fatene durante la live perché come sempre vi ricordo che farò delle pause, farò delle trattazioni divise in capitoli. Alla fine di ogni capitolo leggiamo qualche domanda. Prima però di lanciarci nel resto di questa monografia lasciate che ringrazi lo sponsor di quest'oggi che è Cambly. Cambly è sponsor e partner di Daily Cogito da ormai qualche mese ed è un'applicazione fantastica, veramente ragazzi, fantastica, che vi permette di fare una cosa giusto giusto un po' importante per la nostra epoca, tipo imparare bene l'inglese. Sapete, imparare l'inglese si può fare in tanti modi, posso guardarmi film in lingua originale su Netflix, però quando non sono molto avvezzo con le lingue magari mi guardo un film in giapponese e penso che sia inglese e imparo un inglese un po' sbagliato e allora è meglio avere altri metodi. Cambly ti permette effettivamente di imparare l'inglese nel modo che secondo me è il più adatto, cioè parlandolo con qualcuno che ti fa parlare solo in inglese. Infatti grazie a Cambly potrete fare una serie lunga, un anno, due anni di video call one to one con degli insegnanti in madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere. Infatti con Cambly tu puoi tranquillamente conversare in inglese con un ingegnere nucleare oppure con un filosofo, puoi conversare in inglese con un pilota aeronautico e puoi conversare in inglese con un lavapiatti o chiunque. Da qualunque campo del sapere tu puoi parlare in inglese ogni provenienza geografica e via dicendo per 30 minuti, 60 minuti, quello che vuoi e io credo sia una bellissima opportunità. Oltretutto nell'applicazione che è pratica e facile da usare direttamente su smartphone, tutti i dialoghi one to one vengono salvati, quindi uno può anche rivederseli in un secondo momento e effettivamente poter migliorare, vedere gli errori, ripetere, ribadire e poi alla prossima video lezione fare ancora di meglio. Cambly è una gran figata e con il codice sconto che trovate in descrizione o in chat scrivendo il comando Cambly potrete avere accesso a due cose fenomenali. Uno è una lezione gratuita di 10 minuti. 10 minuti con un insegnante a vostra scelta, usateli quei 10 minuti, usateli perché sono quelli che vi convinceranno, che vi faranno vedere come questo è veramente, veramente un grande approccio per imparare l'inglese senza dover andare a parlare quella lingua nel paese dove bisogna andare, anche perché adesso andare in Inghilterra è un po' complicato, però insomma sono 10 minuti gratis di lezione, usateli, fatemi un favore, scaricate l'applicazione, usate il codice 10 minuti gratis di lezione e poi c'è anche un secondo vantaggio, 50% di sconto sul piano annuale, anche questo mi sembra insomma una cosa discretamente interessante, quindi date un'occhiata a Cambly che ringrazio tantissimo per sostenere Daily Cogito e adesso dopo questo sponsor direi di tornare al nostro Daily Cogito e perciò torniamo a Pascal signore e signori, torniamo a Pascal e tuffiamoci nel primo capitolo, nel primo capitolo di questa monografica, devo prendere questo librone del destino, andare alla pagina giusta che è 2285 eccolo qua, perfetto e come sempre partiamo, ogni capitolo parte con una citazione e quindi il primo capitolo si intitola La miseria dell'uomo desideriamo la verità e non troviamo in noi che incertezza, cerchiamo la felicità e non troviamo che miseria e morte, siamo incapaci di non desiderare la felicità e la verità e siamo incapaci di certezze e di felicità, questo desiderio ci è lasciato sia per punirci che per farci sentire da dove siamo caduti. La miseria dell'uomo è legata a questa continua ambivalenza, questa tensione, per chi c'era ne abbiamo parlato anche nella monografia con Kierkegaard, quando abbiamo detto che Kierkegaard è un pensatore della tensione, l'uomo è teso, è una corda tesa fra il finito e l'infinito, fra il mortale e l'anelito e l'immortalità, è un tema ricorrente di questi tempi e anche su Daily Cogito, ne abbiamo discusso tante volte, Pascal fonde il suo pensiero sul dualismo che soggiace alla condizione dell'essere umano, da un lato abbiamo l'esperienza empirica, quella sensoriale, il vedere, l'annusare, il toccare, il sentire, il testimoniare, il poter provare, sperimentare e questo ovviamente fonda la scienza, di cui Pascal è un grandissimo esponente, perché di nuovo ricordiamoci Pascal è stato un grande inventore, matematico, esperto di geometria, a 12 anni aveva già scritto un trattato sulle leggi euclidee, insomma un genio, veramente un genio, nel vero senso della parola, non ebbe una vita particolarmente felice, però era un genio, molto spesso i geni non hanno esattamente una vita felice, Pascal non fa eccezione a riguardo, però dicevo da un lato c'è l'esperienza empirica, quella scientifica, dall'altro c'è l'esperienza metafisica, che potremmo definire mistica, religiosa, da cui per esempio la filosofia e la teologia, e la grandezza di Pascal, che evidentemente era una cosa che faceva parte di tanti pensatori in quell'epoca, ma in lui ancora di più, è quella di cercare un approccio che permetta all'essere umano di salvare entrambi questi mondi, perché nessuno dei due dice tutto il vero, nessuno dei due dice tutto falso, entrambi fanno parte di quello che siamo, e gran parte della nostra infelicità deriva dai momenti in cui scambiamo i ruoli, quando ci convinciamo che la razionalità può rispondere a tutto, o quando ci convinciamo che la razionalità invece non vale niente, la tensione dell'uomo, questa tensione è la sua più autentica dimensione, e al tempo stesso è il fondamento della nostra miseria e infelicità, della nostra incompiutezza. Scrive Pascal, questa guerra interiore della ragione contro le passioni ha fatto sì che quelli che hanno voluto conseguire la pace si sono divisi in due scuole, gli uni hanno voluto rinunciare alle passioni e divenire dei, gli altri hanno voluto rinunciare alla ragione e divenire brutti, de baro, ma non ci sono riusciti né gli uni né gli altri, e la ragione sta sempre là ad accusare la bassezza e l'ingiustizia delle passioni e a turbare il riposo di quanti vi si abbandonano, e le passioni sono sempre vive in chi vuole rinunciare ad esse. Perdonatemi, ma qui insomma abbiamo un aforisma, perché poi i pensieri, le ponse, sono quasi tutti aforismi, un aforisma che spezza tutta la filosofia moderna e arriva fino ad oggi questo discorso fra chi rifiuta la ragione diventa brutto e chi rifiuta le passioni e diventa Dio, ma ovviamente ironicamente l'ironia di Pasquale è una cosa che io adoro, la vediamo molto presente oggigiorno, lo vediamo nel rifiuto della scienza e dall'altra parte nel blastaggio della scienza nei confronti della passione che è una cosa sporca da rifiutare. In questa tensione noi vediamo che gli uni tentano di far sì che la ragione domini tutta l'esperienza, eliminando la passione, ma la passione continua a vivere in chi vuole rinunciare ad essa, cheat, e chi invece pensa che la ragione sia fuorviante e quindi usa solo la passione, solo l'emotività, quindi non risponde con nessuna ragionevolezza e diventa brutto. Questa cosa qua è così attuale che fa venire la pelle d'oca. Questa tensione è rappresentata da tantissimi aspetti della nostra vita e devo assolutamente proporvi altre letture che sono significative, quindi allora per esempio questa. Nei pensieri leggiamo il dualismo dell'esprit de geometrie et de finesse. Allora partiamo da questo prima delle letture. Pascal intende questo dualismo, ok, ci sono questi due mondi letteralmente che sono uno quello dell'empirismo dell'esperienza e l'altro quello del misticismo della religione. da un lato abbiamo l'esprit de geometrie, quello che attraverso l'istituzione e la comprensione di un metodo con cui approcciare il reale ci permette di fare ordine fra i presupposti empirici che ci danno un'immagine del mondo. Esattamente come la geometria, la geometria, l'etica amore geometrico demonstrata, come diceva Spinoza, però per Pascal non si può ragionare in termini di morale con l'esprit de geometrie. L'esprit de geometrie serve semplicemente per dare ordine all'esperienza. E poi c'è l'esprit de finesse, lo spirito della finezza, dell'arguzia, dell'intuizione potremmo dire, il quale al contrario va non a scandagliare l'esperienza empirica, ma quello che l'uomo è dentro di sé, il suo spirito, le sue passioni, la relazione con la felicità, tutte cose che non possiamo andare a scandagliare con la geometria. E allora scrive così Pascal, l'esprit de geometrie riguarda principi che per così dire sono palpabili e bisognerebbe avere proprio una mente completamente falsata, scrive, per ragionare male su principi così grossolani che è quasi impossibile che sfuggano. Invece, nella mentalità intuitiva, i principi appartengono all'uso comune e stanno sotto gli occhi di tutti. Non c'è che da prestarvi attenzione senza farsi violenza, basta soltanto una buona vista, ma che sia buona per davvero, perché i principi sono così tenui e così numerosi che è quasi impossibile che qualcuno non sfugga. Ora, l'omissione di un principio conduce all'errore, perciò bisogna avere la vista ben chiara per vedere tutti i principi e avere poi una mente equilibrata per non ragionare falsamente sui principi conosciuti. È letteralmente l'esposizione di un metodo, un metodo d'indagine. E nei pensieri, poi, Pascal, sempre in questo dualismo fra esprit de geometrie e esprit de finesse, dice, l'uomo è un essere pieno di errore. Errore naturale e ineliminabile senza la grazia. Niente gli mostra la verità, tutto lo inganna. Questi due principi di verità, la ragione e i sensi, non solo mancano di sincerità, ma si ingannano a vicenda. I sensi ingannano la ragione con le false apparenze e questo stesso inganno che tendono alla ragione lo ricevono a loro volta dalla ragione, la quale in questo modo si vendica. Le passioni dell'anima turbano i sensi e producono in essi le impressioni false, mentiscono e si ingannano a vicenda. Questo, peraltro, è un'argomentazione che ricorda molto da vicino Cartesio, autore, che, per quanto Pascal critichi in modo pesante, è in realtà molto vicino, molto vicino a Pascal sotto molti punti di vista. La verità, dice poi, e questo è per far capire ulteriormente questa differenza fra i principi empirici e quelli metafisici. Questo, drizzate bene le orecchie perché è importante, dice, la verità è che tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza. Un meridiano decide della verità. Nel giro di pochi anni le leggi fondamentali cambiano. Il diritto ha le sue epoche. Singolare giustizia che ha come confine un fiume. È bellissima questa frase, singolare la giustizia che ha come confine un fiume. Verità di qua dei Pirenei, errore di là. Il furto, l'incesto, l'uccisione dei figli o dei padri, tutto ha trovato posto fra le azioni virtuose. Si può dar cosa più spassevole di questa? Che un uomo abbia il diritto di ammazzarmi solo perché abita dall'altra riva del fiume e il suo sovrano è in lite con il mio, sebbene io non lo sia con lui. Di cosa sta parlando qua? Qui sta parlando proprio per mostrare questo dualismo. Da un lato noi abbiamo la giurisprudenza, la legge e poi c'è la giustizia, il bene. È evidente dal punto di vista di Pasquale, questo lo argomenta molto molto spesso, in modo molto convincente anche nei pensieri, questo dualismo ci mostra che da un lato abbiamo l'esperienza empirica. L'esperienza empirica, quella dell'esperienza sensibile, quella dell'esperienza quotidiana, non può che farci rivolgere gli occhi verso la legge, cioè dobbiamo darci delle regole. Ma le regole non sono la giustizia, perché la giustizia dovrebbe essere invece un principio eterno che vale per tutti, per tutti gli uomini ragionevole, come dirà qualche decennio dopo Kant, anzi due secoli dopo Kant fondamentalmente. No, un secolo, che cazzo sto dicendo? Un secolo dopo Kant. Quindi c'è una ragione universale che fa parte di tutti gli uomini timorati di Dio, potremmo dire. Il problema è che la ragione non ci permette di usare la giustizia. La ragione, quella dell'empirismo, quella dell'esprit de geometrie, ci permette di fare delle leggi che siano eque. Le leggi, nonostante siano eque, cadono in queste assurdità, che di qua e della di un fiume, una cosa illegale di qua è invece legale o virtuosa di là. E quindi io commetto un crimine di qua agli occhi del mio vicino, ma per me invece quello non è un crimine è una cosa, una consuetudine. Per la giustizia questo non vale. E quindi lì Pascal ci mostra proprio il dualismo, che non possiamo risolvere. Non possiamo, attraverso l'uso della ragione empirica, quindi delle leggi, creare un mondo di giustizia. La giustizia infatti attiene a una cosa diversa, a una cosa che ha a che fare con la metafisica, con la religione, con Dio. E poi vedremo. Per questo dualismo non c'è nessuna consolazione. Ecco, se volete leggere Pascal perché vi sentite spaccati da questo dualismo, ma volete la soluzione? Pascal non vi dà la soluzione. Non ve la dà. Pascal infatti è l'antidoto, per noi contemporanei, al gurismo di autoaiuto. Quello che, come dicevo all'inizio, ti vuol dire, ma sì dai, fatti dà una carezza, guarda sei bello, sei unico, sei stupendo, non aver paura. Vai bene così come sei. Non cambiare, non cambiare. Guardati e accettati. Pascal dice tutte cazzate. Non c'entra niente. Questa cosa non ci risolve la miseria che fa parte della nostra vita e che è intersecata a questo dualismo inalienabile, irrefutabile. Serve una filosofia scabrosa. Una filosofia che gratta via il superfluo. Ed è un perfetto antidoto per questo gurismo di autoaiuto. E qualcuno di voi potrebbe dire, ma perché dovrei leggere Pascal allora per stare peggio? In realtà, questo è interessante, perché Pascal, essendo onesto con la condizione misera dell'essere umano, produce un pensiero che può essere vivificante e non demoralizzante. Per questo, per esempio, che ho sempre preferito Pascal a Schopenhauer, perché il pessimismo di Pascal, sotto alcuni aspetti, può essere molto simile a quello di Schopenhauer. Secondo me è molto più onesto, molto meno costruito quello di Pascal. Quello di Schopenhauer in alcuni momenti diventa un pessimismo di posa. Ma soprattutto l'approccio che Pascal ha nei confronti di questa miserabilità dell'essere umano è molto più concreta, molto più efficace rispetto a quella di Schopenhauer. Secondo me, ovviamente, questa è la mia opinione. E questo porta a produrre una filosofia che è vivace. E infatti Pascal, con vivace cinismo, riesce a smontare le basi della consolazione spicciola, dandoci un pensiero che ci fa dire, ok, adesso posso anche intuire in che direzione andare, senza dartela come direzione da fare, ma dandoti gli strumenti giusti. Vi propongo un'altra lettura per darvi idea di questo. Questo forse è uno degli aforismi più famosi di Pascal. Allora scrive Pascal, l'uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma è una canna pensante. Non c'è bisogno che tutto l'universo si armi per schiacciarlo. Un vapore, una goccia d'acqua, bastano a ucciderlo. Ma, anche se l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe ancora più nobile di chi lo uccide, perché sa di morire e sa la superiorità dell'universo su di lui. L'universo, invece, non ne sa niente. Tutta la nostra dignità consiste dunque nel pensiero. È con questo che dobbiamo nobilitarci, e non già con lo spazio e il tempo che potremmo riempire. Studiamoci dunque di pensere bene. Questo è il principio della morale. Il pensiero è una cosa meravigliosa e incomparabile per natura. Ecco, capite bene che Pascal rovescia 250 anni prima a Dostoevsky. Perché Dostoevsky, a fine Novecento, dirà una cosa tipo l'essere umano pensa, e questa è una maledizione. La ragione dell'essere umano è ciò che permette l'essere umano di essere consapevole della vacuità, della nullità, della fatica, della sofferenza, del dolore. E questo sarà seguito poi da pensatori come Cioran, secondo cui il pensiero è la maledizione. Secondo Pascal, è vero che il pensiero è lo strumento che ci impone di guardare in faccia la nostra miseria e caducità e limite, la nostra fragilità di fronte all'universo. Ma è proprio questo che dobbiamo abbracciare, non solo perché fa parte di noi, ma perché solo abbracciando il pensiero, scommettendo fino in fondo sulla qualità del pensiero, è solo così che noi possiamo trarci d'impaccio, non dalla miseria, saremo sempre miserabili, non potremo mai, ma trarci d'impaccio dall'irrilevanza. La contemplazione sincera della nostra piccolezza, la consapevolezza del fatto che siamo limitati, fragili, mortali, piccoli e insignificanti, è la causa e il rimedio stesso della miseria. Non ci farà diventare immortali, ma ci permetterà di capire. Questo è un pensiero importante, il valore del capire. Ecco perché Pascal è un personaggio di scienza e non solo di filosofia, anzi è più di scienza che di filosofia. Ed è pericoloso, scrive, mostrare troppo all'uomo quanto è simile alle bestie, senza mostrargli la sua grandezza. Ed è ancora pericoloso mostrargli troppo la sua grandezza senza la sua bassezza. È ancora più pericoloso lasciargli ignorare l'una e l'altra, ma è utilissimo prospettargli l'una e l'altra. È l'ambivalenza di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni su Daily Cogito. L'ambivalenza di essere delle merde, di essere dei conquistatori, di essere dei bastardi senza cuore, di essere compassionevoli e solidali, di essere magnifici e terrificanti al tempo stesso e anche tante altre cose tutte insieme. Bestia e magnificenza. Questo mi ricorda molto da vicino. Un romanzo che io avvicino a Pascal, cioè non posso non pensare a Pascal quando penso ai viaggi di Gulliver. Quando Gulliver nelle due isole di Lilliput e di Laputa si trova di fronte prima a degli omuncoli minuscoli, quindi gigante fra i nani e poi nano fra i giganti. Questa ambivalenza che crea confusione a Gulliver. E Gulliver scoprirà attraverso questa esperienza che l'essere umano è entrambe le cose. è gigante ed è nano e deve comprendere il ruolo di questi aspetti della sua vita. Questa è genialità, signore e signori. Torniamo per un po' alla chat. Torniamo per un po' alla chat. Rieccoci. Rieccoci qua. Allora, intanto ringrazio tutti quelli che sono abbonati. Grazie a Dani Forna, grazie a Davi, grazie a Mr. Bok, grazie a tutti quanti. Allora, andiamo a vedere. Ricordatevi, io ne approfitto per dirvi, il vostro abbonamento è un grande sostegno per la nostra trasmissione. Noi siamo in live due volte al giorno. Il rassegnato stampa a mezzogiorno in cui leggiamo i giornali, le notizie, approfondiamo le news del giorno, anche con una certa ironia e sarcasmo. E poi il Daily Cogito che si può tenere alle 18 o alle 21 come stasera. E su Twitch tutte le dirette sono visibili a chiunque, abbonati e non abbonati. Le differite sono visibili soltanto agli abbonati. Quindi insomma, se vi abbonate state sostenendo inoltre con Amazon Prime. Voi potete abbonarvi gratuitamente. Avete un abbonamento gratis al mese che potete spendere verso il canale che amate di più. E ovviamente vi tocca abbonarvi a Daily Cogito perché se non amate Daily Cogito sopra ogni canale Twitch, dannazione, siete più bestie che meraviglie. Cioè nel senso io ve lo dico. Quindi mi raccomando. Allora, domanda di Von Misesiani che chiede, Rick, qual è la differenza tra la giustizia di Pascal e il diritto naturale di Locke? Allora, domanda interessante questa. Pascal spesso critica l'idea di diritto naturale. Perché? Perché il diritto naturale ha ancora un connotato razionale. Cioè il diritto naturale di Locke, per quanto ovviamente come qualsiasi diritto naturale sia legato anche in parte a un non empirismo. Cioè nel senso il diritto naturale è intuibile per principi attraverso un ragionamento metafisico. Però comunque il diritto naturale di Locke lo vuole fondare sulla natura, intesa come l'esperienza sensibile. Cioè lui, se andiamo a leggere il trattato di Locke, ci accorgiamo che lui cerca di fondare il diritto naturale su quello che è effettivamente l'esperienza. Insomma, poi per quanto Locke faccia tanti discorsi su Dio e via dicendo. Ecco, Pascal critica molto questa visione perché secondo lui invece il diritto naturale è un fraintendimento. È proprio il tentare di usare la ragione per ragionare invece su una cosa che non ha a che fare con la ragione, che è l'idea di giustizia, che è eterna perché ha a che fare con Dio. Questo è la differenza. E sempre Von Misesiani dice Ricco, ho capito che Pascal non dà soluzione all'ambivalenza, ma non ho capito cosa devo fare dopo che mi sono reso conto di essere ambivalente. Eh aspetta, arriva fino a fine live, non avere troppa fretta, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. Bene, allora, visto che non trovo altre domande direi che possiamo procedere con il secondo capitolo. Il secondo capitolo parla di uno dei possibili tentativi di soluzione di queste problematiche ed è il divertissement. Quindi parliamo del divertimento e la fuga da noi stessi. E scrive Pascal condanno parimenti sia a coloro che prendono il partito di elogiare l'uomo, sia a coloro che prendono il partito di biasimarlo, sia a coloro che prendono il partito di distrarsi e possa provare solo coloro che cercano gemendo. Cosa ci dice Pascal? A Pascal ci dice che l'evidenza della miseria, la consapevolezza di questo dualismo, di questa spaccatura, di questa tensione, spinge i più, i più, la stragrande maggioranza diciamo, a fuggire da se stessi. Cioè, il momento in cui noi ci rendiamo conto di quella sofferenza, di quella fatica esistenziale, del fatto che non c'è soluzione vera, non c'è una vera soluzione, il momento in cui cerchiamo l'evasione, l'evasione dalla realtà, che Pascal chiama il divertissement, ovviamente in francese, perché lui scrive in francese, e questo per lui è un gravissimo problema, perché il divertissement e l'evasione sono la forma più deteriore della nostra miseria. Non c'è marciume peggiore di chi, vista la propria limitatezza, compresa la fragilità, questa ambivalenza di Belva e Angelo, vista la miseria, desideri chiudere gli occhi. Desideri fuggire da questo aspetto. Ne abbiamo parlato, il video sul politicamente corretto di un paio di giorni fa, tratta esattamente di questo problema. Quando tu ti rendi conto della coesistenza, della meraviglia e della merda dentro l'essere umano, se scappi, se ti rinchiudi, o meglio, se neghi il fatto che quell'ambivalenza stanchi in te e invece vuoi dividere il mondo in buoni e cattivi, innocenti e carnefici, vittime e pazzi, a quel punto lì tu stai moltiplicando la tua miseria, non c'è miseria peggiore di chi di fronte alla miseria fugga, la neghi o la nasconda dietro le parole politicamente corrette. L'atto di rifiutare o dimenticare la miseria facendosi occupare dal divertissement è ciò verso cui Pascal punta maggiormente l'attenzione. Scrive Pascal, l'unica cosa che ci consola delle nostre miserie è il divertimento e intanto questa è la maggiore tra le nostre miserie perché è esso che ci impedisce principalmente di pensare a noi e ci porta inavvertitamente alla perdizione. Senza di esso noi saremmo annoiati e questa noia ci spingerebbe a cercare un mezzo più solido per uscirne, ma il divertimento ci divaga e ci fa arrivare inavvertitamente alla morte. Questa frase finale ragazzi è di una potenza devastante, ci fa arrivare inavvertitamente alla morte. Qui devo fare un po' una digressione. Chi è che si ricorda della monografica su Seneca? Dovrebbe avere più di un anno. Quando abbiamo trattato Seneca una delle idee fondamentali di Seneca, che ritroviamo potentissima in Pascal, è che filosofare significa imparare a morire. Cosa vuol dire imparare a morire? Imparare a morire significa arrivare alla morte pronti e come ci si prepara alla morte? Pensando alla morte, anticipandola, sapendo che arriverà pur non sapendo quando o come arriverà. Dice Seneca, bisogna arrivare al momento della morte quando siamo al massimo della felicità. Ma noi non sappiamo quando arriverà la morte, il che significa che dobbiamo essere sempre massimamente felici. E come si fa ad essere massimamente felici? E qui Pascal non ci dice mai che potremmo essere massimamente felici, ma ci dice che potremmo essere miserabili in modo più dignitoso, usando il pensiero, la consapevolezza, cioè imparando a morire, essendo all'altezza della propria vita, avendo scandagliato i propri talenti e usandoli nel migliore dei modi. Altrimenti il divertismo ci distrae, ci divaga e ci fa arrivare inavvertitamente alla morte. Una frase che mi lascia sempre disarmato quando la leggo, perché è talmente... perché tu ci pensi e dici, ma noi arriviamo sempre inavvertitamente alla morte. E invece no. Inavvertitamente arriva la morte, ma noi, se usiamo la testa, arriviamo preparati alla morte. Cioè arrivare alla morte, citando Seneca, nel momento di maggior felicità. Avendo pensato alla morte, avendo anticipato la morte, che non significa essere felici di morire. Significa, credo, non dover rimpiangere nulla quando ce ne andremo. Questo credo sia fondamentalmente. Ecco, il divertismo è ciò che ci occupa, non ciò di cui ci occupiamo. Peraltro, piccolo Autospot. Questo è forse, credo, il tema principale del mio nuovo libro, che uscirà per Feltrinelli ad aprile. Nei prossimi giorni avrete i primi indizi. In realtà, purtroppo, indizi già ce ne sono lì fuori, perché per quanto si sia fatto l'embargo, alcune cose sono uscite, ma non è colpa mia, non da parte mia. Alcuni di voi hanno già visto il titolo e via dicendo, ma non importa. Questo è uno dei temi principali del mio nuovo libro, che non vedo l'ora di farvi arrivare fra le mani, quindi drizzate le orecchie perché nei prossimi giorni avrete già i primi indizi. Comunque, finito questo piccolo Autospot, imparare a morire, che non è una guffata incredibile. Questo, da mille punti di vista, a me ricorda moltissimo un altro stoico, che è Epiteto. Epiteto, lettura che noi sappiamo essere centrale per Pascal, infatti in tantissimi sui aforismi nei pensieri, ma anche in altre opere, troviamo sue riflessioni su Epiteto. E a un certo punto, quando Pascal parla della paura della propria miseria, quindi questo tentativo di fuggire attraverso il divertissement, scrive «Lasciate un re tutto solo, senza alcuna soddisfazione dei sensi, senza alcuna preoccupazione nella mente, senza compagnia, lasciate che pensi a sé, a suo agio, e vi accorgerete subito che un re senza divertimenti è un uomo pieno di miserie». Perciò si usa una grande cura nell'evitare tutto questo e non manca mai attorno a un re un gran numero di persone che provvedono a far seguire i divertimenti ai loro affari e che stanno attenti a tutte le ore che essi hanno disponibili per offrire loro dei piaceri e dei divertimenti, in modo che non ci sia mai un momento vuoto, ossia i re sono circondati da persone che stanno attenti a non lasciare il re tutto solo e in condizione di pensare a se stesso, sapendo bene che se ci pensa sarebbe miserabile quantunque re». Questo è potentissimo, è potentissimo per due motivi. In primo luogo perché ci ricorda quello che poi è forse l'aforisma, lo cito a memoria perché non me lo sono segnato, l'aforisma più famoso di Pascal. Ogni problema dell'uomo nasce dalla sua incapacità di restare sereno da solo in una stanza. Questo capita anche con il re, però mi ricorda anche un fatto fondamentale che in fin dei conti noi siamo esattamente come il re di Pascal. Noi ci circondiamo, ci occupiamo o meglio ci facciamo occupare, come prima ho detto, da un sacco di cose che spesso non ci interessano, che ascoltiamo il rumore di fondo che ci perseguita e che è in realtà non il tentativo di accrescerci ma di rimpicciolirci. È il tentativo di colmare tutti i vuoti, tutti gli spazi vuoti della giornata per, perché cosa? Per non stare da soli con noi stessi. Perché stare da soli con noi stessi è un dramma. È un dramma perché non sappiamo stare da soli con noi stessi, perché come diceva Socrate, noi siamo i primi sconosciuti che incontriamo e non siamo a nostro agio con noi stessi. Quindi abbiamo bisogno, il re ha bisogno dei giullari, dei cortigiani, delle dame, dei balli, delle riunioni e via dicendo. Noi abbiamo bisogno delle serie, della musica, dei podcast, abbiamo bisogno dei videogiochi, dei film, delle chiacchiere, del pub, abbiamo bisogno di tutto quanto, del calcio, lo sport e abbiamo bisogno di YouTube a due perra, abbiamo bisogno di mille orpelli che ci occupano la testa, la mente, gli occhi. Siamo esattamente come quel re. Noi riempiamo i vuoti della nostra vita per evitare di stare da soli con i nostri pensieri e questo aumenta la nostra miseria. Scrive Pascal chi non vede la vanità del mondo è ben vano anche lui, perciò chi non la vede, tranne certi giovani che sono tutti immersi nel chiasso, nella distrazione, nel pensiero dell'avvenire, ma togliete loro la distrazione e li vedrete inaridirsi di noia. Essi avvertono allora il loro nulla senza conoscerlo, perché è una grande sventura ritrovarsi in una tristezza insopportabile non appena si è ridotti a considerare se stessi e non potersene affatto distrarre. Questa cosa può gettarci nella disperazione terribile. Pascal sta parlando a noi. Come possiamo trarci d'impaccio da questa accusa devastante? Ma Pascal non si ferma lì. Il divertissement ci impedisce di pensare proprio alla nostra limitatezza, alla nostra fragilità. Scrive a un certo punto, e questo sì me lo ricordo a me more perché è brevissimo, quanti regni ci ignorano? Una frase, è così, una staffilata devastante. Quanti regni ci ignorano? Regni intesi in ogni senso, regni nelle epoche, nello spazio, regni di animali, regni di oggetti. Quanta realtà non sa nemmeno che esistiamo? Ragazzi, pensiero che ti ammanta di un'oscurità incredibile e però al tempo stesso ti dice, è quello che devi guardare. Hai bisogno di spazio per guardare esattamente quello perché perché lì troverai la tua dimensione come Gulliver, fra i Lipuziani e i Laputiani. Lì, gigante o minuscolo? Siamo giganti per alcuni e minuscoli per altri. Questo, il divertissement che ci occupa, proietta la nostra felicità possibile, improbabile, fuori di noi, ma in questo modo ci rende fragili, ci rende esposti alla mercè del destino. Scrive Pascal, quando considero la breve durata della mia vita, immersa nell'eternità che la precede e che la segue, memoria, ospiti, sunius, diei, prete re, prete reuntis, scusatemi, il piccolo spazio che occupo e anche vedo, inabissato nell'infinita immensità degli spazi che ignoro e che mi ignorano, io mi atterrisco e stupisco nel vedermi qui piuttosto che là, perché non c'è alcuna ragione per cui io sia qui piuttosto che là, ora piuttosto che allora. Chi mi ci ha messo? Per l'ordine di chi? Per l'ordine e la guida di chi mi è stato destinato questo luogo e questo tempo? Queste sono le domande che la ragione empirica non può affrontare, non può, dobbiamo fidarci a un altro ordine di sapere. Certo qualcuno può dire, ma sono domande che uno può anche non porsi, certo, ma sono domande che per quanto uno si convinca che siano inutili e non rispondibili, l'uomo continuerà a porsi, un po' come le passioni che ci convinciamo siano cose inutili e superflue e anche se ci convinciamo di poterle eliminare, alla fine dei conti continueranno a perseguitarci. E scrive ancora, una live piena di citazioni ragazzi perché sono una più bella dell'altra, che cos'è in fondo l'uomo nella natura? Un nulla rispetto all'infinito, un tutto rispetto al nulla, un qualcosa di mezzo tra niente e il tutto. Infinitamente lontano dall'abbracciare gli estremi, la fine delle cose e il loro principio gli sono invisibilmente, invincibilmente nascosti in un impenetrabile segreto ed egli è ugualmente incapace di vedere il nulla da cui è stato tratto e l'infinito dal quale è stato inghiottito. Che cosa farà allora se non scorgere qualche apparenza di ciò che è intermedio tra le cose, in una eterna disperazione di poter conoscere il loro principio o la loro fine? Tutte le cose sono uscite dal nulla e sono portate verso l'infinito. Chi potrà seguire queste strade meravigliose? L'autore di queste meraviglie le comprende, nessun altro può farlo. Rendiamoci dunque conto delle nostre possibilità. Noi siamo qualcosa ma non siamo tutto. Quel tanto di essere che possediamo ci toglie la conoscenza dei principi che nascono dal nulla e quel poco di essere che possediamo ci nasconde la vista dell'infinito. Mamma mia. Mi viene a pelle d'oca quando quando leggo questi passi ragazzi perché sono sono passi veramente veramente straordinari. Allora bevo e poi andiamo a leggere delle domande. Allora grazie a Goyu per mandarmi le domande. Allora Fran chiede secondo te per approcciarsi ad un filosofo è meglio interfacciare direttamente i testi di quest'ultimo oppure meglio prima comprendere i concetti di base del suo pensiero per così leggere con maggiore condizione di causa? No no è sempre meglio leggere il filosofo direttamente. Io sono un sostenitore della lettura dei testi. Poi cosa vuoi può esserci prendo le mie monografiche ma può essere anche un articolo di filosofia un video divulgativo può esserci quel video che ti dà la spinta a leggerlo. Le mie monografie non hanno la pretesa di essere complete di un pensiero di un autore anche perché cosa vuoi sono nella durata di un'oretta e mezza. Un'oretta e mezza capisci bene che i pensieri di Pascal è molto difficile riassumerli. È uno spunto che magari può motivarti a spingerti a leggere direttamente l'autore però poi devi leggere l'autore. È quello che ti farà capire l'autore. Ci sono alcuni particolari pensatori che hanno magari più bisogno di una guida. Mi viene in mente Nice con lo Zaratustra. Infatti consiglio molto spesso di leggere lo Zaratustra di Nice con il libro di Mazzino Montinari che cosa ha detto Nice che è un'ottima guida. Grazie a MidScience per i 13 spettatori in ride. Benvenuti qui nella monografia su Pascal. Ciao a tutti e benvenuti. Però normalmente è meglio leggere il testo ed è meglio rendersi conto oh non ci ho capito un cazzo. Cioè fa bene in filosofia questo. Fa bene. Fa bene leggere una pagina di Spinoza e dire oh cazzo devo leggerla 16 volte prima di capire la virgola che ha detto. Capite? Cioè nel senso non bisogna avere paura di non capire. Non capire è una buona spinta per poi approfondire. Riccardo dice Rick la differenza tra legge e giustizia non può essere anche legata al concetto di etica in Foucault. La differenza fra morale ed etica è proprio il fatto che l'etica sia come stare davanti alle leggi e i codici morali. No no non direi che il concetto espresso da Pascal sia simile al concetto espresso da Foucault. Foucault intendeva dire che principi etici si fondano in modo molto molto più approfondito nella società. Infatti per capire un po' perché le leggi sono disegnate in un certo modo bisogna andare a vedere 200 anni fa quello che succedeva via dicendo. Pascal invece intende proprio una cosa metafisica che in Foucault non abbiamo non troviamo. Foucault Misesiani che se sarebbe molto attivo dice domanda se non so quando la morte arriva perché dovrei pianificare a medio lungo termine se studio per fare il medico potrei morire il giorno della laurea. Ma tu infatti allora a questa è un'altra bella questione allora l'idea di Pasquale non è quella e di Seneca non è quella di come dire vivere giorno per giorno molto spesso il pensiero del imparare a morire viene interpretato male con il vivi giorno per giorno e quindi non pianificare non programmare ma una cazzata in realtà se tu vai a leggere Seneca ti rendi conto che Seneca ti dice continuamente no no cioè pensa al tuo futuro pensaci il punto è che il percorso in cui per esempio tu ti formi come medico non è un percorso di sacrificio e basta in quel percorso tu puoi avere un sacco di piccole soddisfazioni di felicità puoi fare altro mentre studi e ti fa una formazione tu puoi trarre intanto soddisfazione da quello che stai studiando e poi due non fare solo quello anche lì ci vuole la giusta misura imparare a morire quindi venire colto dalla morte al momento di maggior felicità significa per esempio certo il sacrificare qualcosa ma qual è il motivo per cui sacrifichi per esempio non so perché vuoi sposare la persona che ami perché vuoi dare un futuro ai tuoi figli sacrificio fa parte della felicità non è che uno si sacrifica per sacrificarsi questo è il punto di nuovo e la tensione fra finito infinito anche il sacrificio è questo zack essi dice rick secondo te con questa concezione della ragione come parte dell'uomo che gli permette di cogliersi nella sua ambivalenza non c'è il possibile rischio che l'ess detendermini freudiani quindi l'inconscio venga messo nell'angolo poiché marchiato come quella parte di sé che ha portato l'uomo a chiedersi dell'origine del suo disagio che paradossalmente lo avvierà nella strada della ragione allora beh guarda sono del tutto sincero questa domanda non ha molto senso perché tu stai introducendo un concetto che è quello di inconscio che per pascal era assolutamente non non immaginabile cioè nel senso l'ess l'inconscio sono cose che di cui si comincerà a parlare a ben più di un secolo di distanza da pascal in realtà però da questo punto di vista pascal è proprio uno che se vogliamo dirla così ha messo le prime piastrelle che poi avrebbero portato alla strada fino a freud perché l'idea che la ragione vada riconosciuto in quanta limitata è proprio parte integrante dell'idea che nel mondo c'è un sacco di irrazionale e quindi se vogliamo metterla lui ha creato i presupposti per poi arrivare a un pensiero che contemplasse l'irrazionale e quindi anche l'inconscio ultimo di von misasiani poi passiamo all'ultimo capitolo cosa significa esattamente stare da soli con noi stessi a fare cosa a pensare sto da solo a casa e leggo pascal quello divertissement oddio non so non so se leggere pascal per pascal potesse essere divertissement leggendo i suoi aforismi poi di nuovo ti farai tu l'idea quando leggerai pascal ho visto tutte le tue domande leggilo pascal mi raccomando ti risponderei dicendo che stare da soli con noi stessi è quando tu senti solo i tuoi pensieri cioè quando ti metti lì e non so per esempio ripensi la giornata che hai fatto scrivi il tuo diario fai il classico esamino di coscienza come si suol dire quello è stare da soli con noi stessi dall'altra parte potremmo dire questo che l'eventualità di leggere pascal ma così come di guardarsi un film o di ascoltarsi un podcast dovrebbe essere guidata dall'intenzionalità cioè se io leggo pascal per affrontare meglio i miei problemi della mia vita per capire meglio la mia miseria quello non è divertissement perché non mi sto facendo occupare inintenzionalmente da qualcosa ma ho l'intenzione di scandagliare qualcosa per migliorarmi questo è secondo me poi di nuovo potremmo stare qua di squisire però questa secondo me la risposta perché non vorrei mai far passare pascal come uno che dice ah no torniamo alla foresta e vaffanculo a tutto quanto no non è così poi lui ebbe anche una vita fino a un certo punto abbastanza mondana non credo proprio insomma che fosse quella la sua idea passiamo al terzo capitolo signore e signori e il terzo capitolo è scommettere su dio sì perché ovviamente bisogna parlare anche di fede quando si parla di di pascal e non fede di daily cogito ma la fede e quindi scommettere su dio partiamo come sempre con una lettura scrive pascal le prove metafisiche di dio sono così lontane dal comune modo di pensare degli uomini e così astruse che riescono poco efficaci e quando anche fossero adatte per taluni servirebbero solo per il breve momento in cui hanno dinanzi agli occhi la dimostrazione ma un'ora dopo temono già di essersi ingannati è questo il risultato cui conduce la conoscenza di dio senza quella di gesù cristo di comunicare cioè senza mediazioni con il dio che si è conosciuto senza mediatore mentre quelli che hanno conosciuto dio attraverso un mediatore conoscono la propria miseria per questo ridersela della filosofia significa filosofare per davvero il cuore e non la ragione sente dio e questa è la fede dio sensibile al cuore e non alla ragione il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce che questa l'altra famosissima citazione di pascal ora ben lungi dall'essere un sermone domenicale il pensiero religioso di pascal ha in sé degli elementi estremamente interessanti uno su tutti pascal anticipa di molti secoli il pragmatismo pragmatismo di charles sander pers fino a richard rorty infatti interessante sul discorso della metafisica è la visione che pascal porta del concetto di autorità cosa dice fondamentalmente pascal lui dice che nelle evidenze empiriche nella scienza nella sperimentazione l'autorità non ha nessun posto cioè se io devo misurare il tetto di casa mia non è che posso andare da un sacerdote dei tetti a dire quanto misura io devo misurarlo devo prendere misurare registrare imparare dall'errore eventualmente rimisurarlo se devo imparare a guidare una macchina non è che posso affidarmi soltanto ed esclusivamente al sapere dell'istruttore devo guidare la macchina e magari faccio anche degli errori degli errori imparo l'abbiamo detto prima l'uomo è errori perché la ragione e i sensi si ingannano a vicenda sempre ed è da quell'errore che io imparo nell'esperienza empirica non posso rifarmi a un'autorità questo significa che in tutto ciò che è empirico materiale l'autorità non vale nulla no evidentemente perché per esempio se devo conoscere la storia del primo re di francia e mi servirà un libro e non è che posso tornare indietro nel tempo e stringere la mano della di francia e dire ok era una brava persona anche perché probabilmente non lo era se devo vedere com'è com'è nata la catena dell'Himalaya non posso tornare indietro nel tempo e vedere l'orogenesi della tettonica placche che fa emergere questo massiccio roccioso no cioè leggerò un libro che parla di storie dell'orogenesi e di tettonica placche e via dicendo quindi l'autorità comunque il corso però normalmente quando ho da fare un'esperienza empirica devo farla io non posso rifarmi a un'autorità e infatti secondo pascal la scienza non è autoritaria e per questo ho anticipato il pragmatismo perché qualche settimana fa io ve ne ho anche parlato del libro di richard rorti pragmatism pragmatism as anti authoritarianism cioè il pragmatismo come anti autoritarismo in cui rorti dice esattamente questo dice pragmatismo è utile perché l'esperienza empirica non contempla autorità ma autorevolezza e competenza la fede però è diversa e infatti secondo rorti in questo libro di che è uscito da poco peraltro perché comunque è stato pubblicato postumo secondo rorti la religione va rifiutata tutta la metafisica va rifiutata e anche gran parte della filosofia va rifiutata perché autoritaria cioè perché tu per rispondere alla domanda ma dio che misura di piedi c'ha che colore di camicia porta dovrai per forza andare da un sacerdote da un guru da un papa che ti dirà secondo le vecchie scritture dovrai rifarti i profeti questo è il motivo per cui per rorti la religione va rifiutata ok dobbiamo superare la regione e la metafisica pascal non è d'accordo dice che la fede ha bisogno dell'autorità ma di una particolare forma di autorità infatti l'autorità della fede in primo luogo è un dono ve lo leggo questo importante dice pascal il supremo passo della ragione sta nel riconoscere che c'è un'infinità di cose che la sorpassano è ben debole se non giunge a riconoscerlo se le cose naturali le trascendono che dire di quelle sopranaturali nulla è così conforme alla ragione come questa sconfessione della ragione la fede è un dono di dio non crediate che diciamo che è un dono del ragionamento le altre religioni non parlano così della loro fede non davano per arrivarci se non il ragionamento il quale non vi arriva mai la fede è differente dalla dimostrazione questa è umana quella è un dono di dio laddove con dono si intende letteralmente una sottomissione a dio cioè secondo pascal la fede o ce l'hai o non ce l'hai non è una roba su cui puoi ragionare puoi stare a dire ma vediamo mi convince non mi convince ma che faccio ma le parlo ma non le parlo cioè la fede ce l'hai oppure non ce l'hai stop è un dono ed è un dono in quanto tu ti sottometti a dio cioè la capacità della ragione di riconoscere la sua estrema limitatezza è il presupposto per la sottomissione che ti permette di scoprire di avere fede questo è e quindi in primo luogo è un'autorità in quanto è una sottomissione a dio ma in secondo luogo ed è più interessante questo è un'autorità perché la fede anzi meglio ancora la conoscenza di dio attraverso la fede è mediata dall'incarnazione di gesù questo è quello che dice infatti infatti leggiamo dov'è tre paglia 5 48 ah sì beh questa ve l'ho già letta in realtà giusto desideriamo la verità non troviamo che incertezza no eccolo qua cosa sto dicendo questo dicendo eccolo qua ho fatto ho svarionato ok scrive pascal come non dite anche voi che il cielo e gli uccelli provano dio no e la vostra religione non lo dice no perché sebbene ciò in un certo senso sia vero per alcune anime alle quali dio dona questa luce non di meno è falso per i più la realtà è che noi conosciamo dio soltanto per mezzo di gesù cristo senza questo mediatore ogni comunicazione con dio è impossibile per mezzo per mezzo di gesù cristo conosciamo dio tutti coloro che hanno preteso di conoscere dio e di provare nell'esistenza senza gesù cristo avevano soltanto prove inefficaci per provare gesù cristo noi abbiamo invece le profezie che sono prove solide e tangibili qua pascal prende un po la tangente è il fatto che se si siano avverate siano state provate dall'evento fonda la certezza di quella verità e costituisce quindi la prova della divinità di gesù cristo in lui e per lui conosciamo dunque dio senza di ciò e senza la scrittura senza il peccato originale senza mediatore necessario promesso è venuto non si può provare assolutamente dio ma per gesù cristo dunque il vero dio per gesù cristo scusatemi è in gesù cristo si prova dio e si insegna la morale e la dottrina gesù cristo è dunque il vero dio degli uomini noi non solo non conosciamo dio se non per mezzo di gesù cristo ma non conosciamo noi stessi se non per mezzo di gesù cristo non conosciamo la vita la morte se non per mezzo di gesù di gesù senza gesù cristo non sappiamo che cosa sia la nostra vita la nostra morte dio noi stessi pertanto senza la scrittura che ha come unico oggetto gesù cristo non conosciamo nulla e vediamo solamente oscurità e confusione nella natura di dio come nella nostra ora al netto di quello che possiamo tranquillamente definire uno sbrodolamento cioè nel senso è proprio però è la fede ragazzi lui ce l'ha io non ce l'ho la cosa interessante è questa cosa che lì l'autorità è comprovata dalla fede cioè tu hai fede in gesù cristo e questa fede ti porta a vederlo come mediatore attraverso cui conoscere dio e conoscendo dio conosci tutti quegli aspetti della tua vita che non sono studiabili analizzabili dalla ragione e sono la morte la natura della vita il significato dell'esistenza la felicità e via discorrendo vista la concezione della ragione di pascal non sorprende la sua visione della religione cioè una visione che non arriva in modo sorprendente infatti leggiamo gli uomini gli uomini nutrono disprezzo per la religione la odiano e hanno paura che sia vera per guarirli da questo bisogna cominciare a mostrare che la religione non è affatto contraria alla ragione degna di venerazione ispirarne rispetto poi renderla amabile far desiderare i buoni che essa sia vera e poi mostrare che essa è vera venerabile perché ha conosciuto bene l'uomo amabile perché promette il vero bene capite bene insomma che la religione prende un posto centrale qual è quindi la natura della fede la fede è un rendersi alla propria impotenza alla totale impotenza e come leggevo prima desideriamo la verità e non troviamo che incertezza cerchiamo felicità e non troviamo che miseria e morte siamo incapaci di non desiderare la felicità e la verità e siamo incapaci della certezza e della felicità questo desiderio ci viene lasciato sia in punizione sia per farci sentire da che punto siamo caduti questa ammissione di impotenza della ragione è ciò che fonda la stessa fede la quale però non è spiegabile soltanto attraverso la ragione ma è un e quindi doppiamente autoritaria secondo pascal questa autorità va accettata secondo rorti e i programmatisti che però partono dallo stesso presupposto questo motivo per cui va rifiutata a voi le conclusioni ovviamente sempre tenendo conto che si tratta di un pensatore del 1600 che ovviamente era in un contesto culturale sociale completamente diverso però è per tutti questi motivi che pascal si scaglia anche in modo abbastanza violento contro il dio dei filosofi il dio geometricamente dimostrato le prove dell'esistenza di dio di tommaso di agostino e tutto quanto in fin dei conti secondo pascal il deismo il teismo l'ognosticismo tutte queste cose che contemplano dio ma senza gesù cristo sono solo il tentativo di dare alla ragione un compito impossibile per la ragione noi scrive pascal conosciamo l'esistenza e la natura del finito poiché siamo finiti ed estesi come esso conosciamo l'esistenza dell'infinito e ne ignoriamo la natura perché a estensione come noi ma non limiti come noi ma non conosciamo né l'esistenza né la natura di dio perché è privo sia di estensione sia di limiti e continua non solo è impossibile ma è inutile conoscere dio senza gesù e d'altro canto non posso perdonarla a cartesio il quale in tutta la sua filosofia avrebbe voluto poter fare a meno di dio ma non ha potuto evitare di fargli dare un colpetto al mondo per metterlo in moto dopodiché non sa più che farne di dio qui è un po impiettoso nei confronti di cartesio io fra cartesio e pascal vedo tante somiglianze e però il punto è questo il punto è che la colpa della filosofia è quella di aver dato alla ragione è un compito che la ragione non ha per esempio cercare il significato dell'esistenza attraverso la ragione rispondere a domande metafisiche attraverso la ragione pascal è un amante della ragione della scienza che però cerca di dire il perché la scienza è limitata arriva fino a un certo punto e quindi per tutto il resto poi serve qualcos'altro serve dio e quindi gesù e quindi la fede al netto di questo letto che poi possa o meno convincere questo aspetto questo è il vero scrub del pensiero di pascal questo è la vera la vera escoriazione smembrare l'arroganza della ragione ed è per questo che nella storia della filosofia pascal è così importante e così eccentrico e strano e credo che sia sia meraviglioso affrontare un pensiero di questo tipo che in parte può convincerci in parte no ovviamente non è quello che però ci dà strumenti argomentativi importanti poi e io lo dico nel finale perché come detto all'inizio secondo me è uno dei pensieri o meno interessanti pascal è diventato famoso per la sua scommessa la scommessa di pascal allora voglio spendere due parole e leggervi alcune cose legate a questa scommessa così magari insomma avete qualche qualche indizio perché bisogna scommettere su dio allora secondo pascal secondo non solo pascal dio o esiste o non esiste a quel punto pascal si chiede ok ma dov'è che pendiamo noi allora scrive così la ragione intorno a questo problema non può determinare nulla c'è di mezzo un caos infinito all'estremità di questa distanza infinita si gioca un gioco in cui uscirà testa o croce su quale delle due punterete secondo ragione non potete puntare né sull'una né sull'altra e nemmeno escludere nessuna delle due non accusate dunque di errore chi abbia scelto perché non ne sapete un bel nulla capite questo questo è già già molto particolare lui dice se dobbiamo seguire la ragione non dobbiamo scommettere perché non abbiamo gli elementi empirici perché la ragione si limita all'empirismo all'esperienza e come faccio io a scommettere su una cosa su cui non ho nessun tipo di indizio empirico e però poi aggiunge quindi non giudicate con la ragione coloro che scommettono cioè ci sta dicendo quello che diceva prima sulla passione che noi possiamo tranquillamente convincerci ragionevolmente che la passione è inutile che il cuore non ha le sue ragioni però alla fine la passione continuerà ad agire anche nell'uomo convinto che essa non possa agire bene perfetto e fin qui ci siamo qui ci sta dicendo una cosa molto simile dice la ragione ci impedisce di scommettere e però noi scommettiamo scommettiamo che esista o che non esista la facciamo sta scommessa quindi attraverso la ragione non possiamo giudicare chi scommette e poi continua sì ma scommettere bisogna eccolo qua non è una cosa che dipenda dal vostro volere ci siete impegnato che cosa sceglierete dunque perché scegliere bisogna esaminiamo quel che vi interessa meno a qui qualcuno dirà ah beh io sono agnostico non scelgo secondo pascal questa è una razionalizzazione cioè tutti noi scommettiamo anche se non lo diciamo quindi se uno dice così sta mentendo a se stesso avete due cose da perdere il vero e il bene e due cose da impegnare nel gioco la vostra ragione e la vostra volontà la vostra conoscenza e la vostra beatitudine e la vostra natura ha da fuggire due cose l'errore e l'infelicità è molto molto pragmatico molto rigoroso la vostra ragione non patisce maggiore offesa da una scelta piuttosto che dall'altra da che bisogna necessariamente scegliere ecco un punto liquidato quindi la ragione non si pone il problema se una o l'altra cosa possano offenderla ok quindi la ragione non è più un problema ma la vostra beatitudine pesiamo il guadagno e la perdita nel caso che scommettiate in favore dell'esistenza di dio valutiamo questi due casi se vincete guadagnate tutto se perdete non perdete nulla scommettete dunque senza esitare che gli esiste cioè alla fine devo scommettere e quando scommetto devo scommettere che esiste perché se no mi espongo al rischio di perdere tutto e continua siccome c'è uguale probabilità di vincita e di perdita se aveste da guadagnare solamente due vite contro una vi converrebbe già scommettere ma se ce ne fossero da guadagnare tre dovreste giocare poiché vi trovate nella necessità di farlo e da che siete obbligato a giocare sareste imprudente a non rischiare la vostra vita per guadagnarne tre in un gioco nel quale c'è uguale probabilità di vincere o di perdere ma qui c'è un'eternità di vita e di beatitudine stando così le cose quando anche ci fosse un'infinità di casi di cui uno solo in vostro favore avreste pur sempre ragione di scommettere uno per avere due e agireste senza criterio se essendo obbligato a giocare rifiutaste di rischiare una vita contro tre in un gioco in cui su un'infinità di probabilità ce ne fosse per voi una sola quando ci fosse da guadagnare un'infinita di vita è infinitamente beata cioè se io devo scommettere ok e posso guadagnare la vita eterna anche di fronte al rischio di perdere questa vita sarei uno stolto a non farlo questo è ora io devo dirvelo sempre ho sempre letto queste argomentazioni di pascal molto come una provocazione cioè nel senso una una sorta di non troppo però però con con quel filo di ironia filo di ironia oh ma grazie io non mi ero non mi ero accorto che sono arrivati i ragazzi del cerbero grazie mille grazie mille scusatemi ma io ero concentrato a fare a fare la live quindi benvenuti a tutti scusatemi per per il mancato saluto ma non sono troppo concentrato a fare queste cose per per accorgermi benvenuti e grazie cerberi ci sentiamo è così vi portiamo qua i cogito studios presto e comunque dicevo ho sempre letto questa scommessa di pascal molto come una cosa provocatoria che è una cosa per andare oltre i limiti una cosa anche con grande ironia devo dirlo non ho mai presa molto sul serio perché dall'altra parte io sto dalla parte di nice cioè nice quando si scontra con il ragionamento di pascal a un certo punto dice piano cioè nel senso se io scommetto che dio esista devo dedicare parte della mia vita e del mio tempo a una cosa che magari non esiste e voi sapete che nice con il ragionamento dell'eterno ritorno dice ogni istante perduto a pregare un'entità che non esiste è un'eternità perduta quindi la scommessa di pascal vale soltanto in un tempo lineare ma non in un tempo circolare in cui la perdita di un istante equivarrebbe alla perdita di un'eternità però beh qui il discorso è veramente troppo ampio sicuramente a me questa dimostrazione non ha mai convinto granché se non più per triggerare gli atei perché il ragionamento ci sta anche però ecco io ritengo quasi offensivo che pascal sia diventato famoso per questo per questo pensiero e magari per tante altre cose non se lo ricorda nessuno quando in realtà la sua potenza sta in tante altre idee però il destino dei filosofi è quello di venire usati cambiati come le mutande a natale e fraintesi non c'è nulla da fare prima di passare domande della chat qualche punto conclusivo perché insomma dedicare del tempo per leggere pascal non come divertismo ma come strumento per migliorare la propria vita a in primo luogo perché io sono sempre convinto che la filosofia esiste per metterci in crisi cioè la filosofia non ci dà le risposte alla vita la filosofia ci dissesta ed è questo che fa la filosofia e pascal questo lo fa bene qualunque sia la vostra posizione nei confronti della realtà leggere pascal vi dissesterà romperà alcune vostre certezze e vi costringerà a rivederle e questo è il meglio che possiamo chiedere ad un filosofo in secondo luogo quello di pascal è un interessante stoicismo moderno che è molto utile per i nostri problemi pascal ci dà degli indizi su come ripulire il rumore mentale che ci offusca sempre ci occupa e ci dice anche i motivi per cui dovremmo farlo dovremmo fare la fatica e ci dice che le cose importanti della vita si acquisiscono con fatica nessuno ce le dà sono lì ci sono ma dobbiamo fare quei 27.000 passi in più per raggiungerli e farli nostri se uno invece vuol santo altro divertissement intrattenimento e basta allora sti cazzi diventeranno zombie bisogna fare fatica io credo che in quest'epoca qua sta roba dobbiamo ripetercela signori dobbiamo ripeterci decidere di fare la fatica prima di tutto la fatica di stare da soli con noi stessi la fatica di sentire la voce nella mia testa e fare i conti con me fare i conti con i miei limiti questa è la fatica come abbiamo capito pascal da una montagna di interessantissimi indizi sulla relazione che esiste fra ragione e fede e ricordiamoci che i suoi testi fanno ancora scuola oggi in tantissimi di questi ambiti e poi aggiungo è una lettura ghiotta cioè è fresco è originale ed è pure ironico riesce ad essere sempre un passo avanti rispetto alle tue aspettative ti sorprende è veramente figo da leggere pascal quindi questi sono motivi veramente importanti per andare a leggervi blaze pascal e con questo è tutto e adesso questi ultimi cinque minuti rispondo a qualche domanda e vediamo un po e vediamo un po allora vediamo eccolo qua dillon gog chiede pascal mi ricorda per quello che dice sul divertissement i concetti di kirkegaard e heidegger su vita estetica inautentica come ha fatto ad anticipare i temi esistenziali di 800 900 e le soluzioni che propone sono le stesse anche se vive nel 600 sì sì io credo che pascal sia stato un ispiratore di tantissimi per esempio gli esistenzialisti secondo me da pascal hanno preso molto o comunque devono molto a lui come ha fatto ripeto era un genio cioè qui sei proprio di fronte un genio d'altronde tutti i grandi autori riescono a dire cose che vanno oltre i limiti del loro tempo e arrivano fino a noi grazie a mister bocca che ha regalato tre abbonamenti due abbonamenti grazie a cimitero grazie mille a tutti sempre gli abbonati grazie per i beat grazie ragazzi siete siete fantastici grazie per il sostegno grillo fil quindi nel concetto di divertissement c'entra anche quello di intenzionalità ma allora questa è una mia interpretazione che però secondo me è molto trasparente quando leggi pascal il divertissement è letteralmente la passività del farsi portare a qualcosa del farsi occupare quindi ha a che fare con l'abbandono dell'intenzione sicuramente fommi cesiani pascal può essere definito empiricista se sì in che modo riferisce dall'occa in questo senso mi sembra di averti già risposto prima quando ti ho parlato della legge naturale no pascal non è un empiricista è un pensatore complesso al cui interno c'è anche un approccio empirista secondo pascal l'idea di dio è innata o frutto dell'esperienza la fede è un dono di dio ed è una cosa che non trai dall'esperienza quindi è innata mister bock il discorso sul divertissement e la morte in pascal potrebbe somigliare a quello che diceva de andrea sulla paura della pace terrificante cioè sulla morte come perdita di qualunque spinta dell'intelletto non so è un collegamento che può starci è cioè adesso adesso non è un collegamento interessante non saprei darti una risposta anche perché dovrei ascoltarmi la 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 il verso di de andrea sì è sicuramente un collegamento fattibile sempre van misesiani e se il vero dio mi condannasse alla dannazione eterna perché io ho scommesso sul dio sbagliato e se invece il vero dio mi avesse perdonato in caso mi fossi astenuto dalla scommessa e sospeso il giudizio e queste sono tutte ipotesi che che possiamo discutere ma non è non non è pascal a darci le risposte quindi non saprei risponderti così sono tutte ipotesi su cui possiamo giocare ovviamente peraltro la scommessa di pascal è uno degli esercizi retorici che ha sviluppato poi più giochi filosofici enigmi e via dicendo quindi possiamo andare avanti all'infinito così grazie jessica ferrari per i beat grazie alberto zanaboni per gli otto mesi step and wolf dice il divertissement di cui parla pascal trovo che sia incredibilmente attuale eh sì negli ultimi anni si è diffuso sempre di più anche qui in italia un fenomeno noto come ikikomori l'ikikomori colpisce soprattutto i giovani che sprecano quasi l'interesse del loro tempo nel consumo ossessivo di prodotti televisivi e lo so lo so come pensi che si possa salvare un individuo preso da questo divertissement portato all'eccesso allora prima di tutto se siamo a livello di ikikomori ovviamente bisogna cercare aiuto da un professionista cioè nel senso lì si tratta comunque a quanto ne so di una vera e propria dipendenza quindi serve un sostegno eh a volte quell'atteggiamento nasce magari da qualche trauma può essere tanti aspetti ehm sia un problema enorme un problema che esisteva già ai tempi di pascal oggi ancora di più credo che eh di nuovo al netto dell'aiuto che qualcuno può dare ciò che fa uscire le persone da questo sia un trauma eh un trauma che ti faccia rendere conto di quanto male ti stai facendo purtroppo io su questi aspetti mi sono sempre più convinto che non basta la retorica la comunicazione eh non basta il linguaggio la persuasione ci vuole un'esperienza che ti sveglia fuori credo sia così insomma grazie a morabito presidente per i 100 bit eh sì allora e chiede domanda un po off topic tende più un approccio teleologico o deontologico beh questa è una domanda fin troppo vasta per trovare risposta in poche parole quindi mi perdonerai sono dalla parte di nagel conosco cioè sostengo l'approccio deontologico eh però credo che l'essere umano abbia comunque bisogno di una forma di teleologia almeno per quanto riguarda la sua esistenza qual è lo scopo che ti dai eh credo credo che ci sia bisogno di questo con moderazione eh ultima domanda di Tommaso Rick ma come si potrebbe smontare la scommessa effettivamente l'argomento tiene è un suo senso cosa potrebbe rispondere un ateo ma allora ehm io ribadisco come eh afferma Nice secondo me l'idea che il tempo passato a coltivare la fede ehm non sia tempo perso è un'idea un po' così un po' criticabile a un certo punto eh Pascal dice eh tanto anche se Dio non esiste tu hai passato la vita a diventare una persona migliore ad essere più accogliente ad essere più buono e io vorrei dire a Pascal guarda che la fede in Dio ha portato anche a massacri torture violenze cioè non è che credere in Dio ti renda una persona migliore così tu cur credere in Dio a volte ti porta a fare delle cose terribili quindi ecco secondo me è un po' questa la critica che muoverei è ovviamente una critica contenutistica non formale nella forma la scommessa di Pascal funziona difficile da smontare però non c'è solo la forma ecco tutto lì è per questo che io ho sempre ho sempre pensato che fosse un argomento non 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 debole però semplicemente un argomento non così forte come spesso si dice tutto lì tutto lì questo è quello che penso io ovviamente non è quello che dovete pensare voi voi fatevi la vostra idea leggendo leggendo Pascal grazie Morabito per altri 100 bit ti manca il liviano no non particolarmente non mi mi manca il liviano non mi manca l'ambiente universitario anche se me lo sono goduto e io direi che ci siamo questa sera signore e signori vi ringrazio tanto per essere stati qui con noi ringrazio anche lo sponsor Cambly andate a guardare Cambly usatelo imparate l'inglese con Cambly ci sono dieci minuti di lezione gratuita usateli scrivendo Cambly in chat e usando il codice sconto che trovate al link io vi ringrazio veramente tanto per essere stati con me mi sono appena connesso vred la live è iniziata alle 21 quindi siamo a due ore di live e ho blatterato per due ore su su Pascal quindi direi che è giunto il momento se ti abboni la puoi recuperare indifferita oppure la puoi sentire domani mattina su Spotify e nel primo pomeriggio anche su YouTube grazie mille a tutti per essere stati con me è stata veramente una bellissima serata spero anche per voi e grazie a Goyu per aver fatto il moderatore è stato un aiuto molto prezioso e vi abbraccio e grazie veramente essere in 530 adesso è bellissimo e ci vediamo domani con rassicato stampa e tutto quanto e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa ah sì adesso facciamo un ride facciamo un ride facciamo un ride